A proposito di vocabolario, inizio proprio con la dottoressa Anna Maria Acquaviva, dietista e dietologa, col chiederle che cosa voglia dire il valore nutrizionista, quindi sapere il primo aspetto, perché questo è importante per quello che diremo dopo. Dal punto di vista nutrizionale gli insetti sono sicuramente molto interessanti, infatti nonostante il valore sia variabile, può dipendere dalla specie, dall'habitat, dal tipo di dieta dell'animale, sicuramente è noto che apportano proteine ad alto valore biologico e nutrienti che lo rendono simili a quelli che sono apportati dalla carne e dal pesce. Infatti il contenuto proteico è elevato dal 13 a 77% di proteine, è un buon valore ed è paragonabile a quello di alcuni crostacei come le cicale di mare e quindi sicuramente è un valore molto interessante. Qual è il modo migliore per accettare questa sfida? Beh, sicuramente è una sfida attualmente, perché parlare di insetti a molte persone può dare fastidio, disgusto, lo colleghiamo alle punture per esempio delle zanzare. In realtà non sono tanto poi diversi da tanti alimenti come i crostacei che noi già mangiamo o pensiamo a quanti di noi mangiano l'escargot che è un piatto considerato delizioso della cucina francese. Dunque sì, ci sono degli studi che stanno cercando di capire come poterlo proporre nel modo migliore e già si sta lavorando cercando di proporlo come farina. Tutto ciò, il rapporto di questo nuovo mondo con la decantata, anche da lei lo ammetta, dieta mediterranea, che tipo di rapporto? Saltano i parametri? No, i parametri possono essere rispettati e questo può essere un alimento che può rappresentare una valida alternativa nutrizionale alle fonti proteiche. Teniamo in conto che contengono anche dei grassi polinsaturi della serie Omega 3 e Omega 6 e sappiamo quanto siano importanti per la salute cardiovascolare e non solo. Quindi possono rappresentare anche un'ottima risorsa per quelle popolazioni, per esempio, che sono prive del consumo di pesce. Io come guardi, lo mostro ai nostri telespettatori, la sua ultima fatica che bambini a tavola, quasi un gioco. Lei si rivolge ai bambini a tanta cura nei confronti dei bimbi, ma il rapporto dei bimbi, di fronte a questa evoluzione culturale, prima, adesso i bimbi a livello culturale poi fanno meno fatica degli adulti in questo senso, ma a livello gastronomico sicuro. Certo, certo. Dal punto di vista nutrizionale, certo, è un alimento che potrebbe essere idoneo, soprattutto nelle parti del mondo in cui c'è molta denutrizione e quindi l'apporto di Omega 3 e Omega 6 spesso è carente e anche di alcuni minerali che sono fondamentali, come lo zinco, il ferro, magnesio, manganese, in questo caso potrebbe rappresentare una risorsa. Certo, dottor Valbonetti, noi oggi non ci troviamo in un caso di denutrizione per i nostri bambini, quanto piuttosto di malnutrizione. D'accordo con lei, però quando apro a caso proprio il suo libro, Fantasie in cucina da mangiare e con gli occhi, i bimbi osservano e mangiano con gli occhi volentieri magari un fast food piuttosto che. Certo, l'occhio vuole la sua parte, quindi nel mio caso io cerco di ispirare i bambini con delle ricette a base di alimenti sali, salutari e sicuramente le forme divertenti come anche nella copertina del libro questo gufo possono essere accattivanti, quindi su questo tutti i genitori, tutte le mame e tutti i bambini possono sicuramente giocare per avere effetti positivi. Lei ha accennato al tema delle farine, di insetti e quant'altro, sono già presenti? Sì, già vengono prodotti i cracker, per esempio a base di farina di grillo e pare che siano una prelibatezza attraverso l'alimento secco per il consumatore è più facile avvicinarsi a questo alimento tanto particolare per ora. Dottoressa Acquaviva, credo che noi abbiamo aperto questo capitolo, questo libro, adesso sentiamo dei nostri interlocutori, dei protagonisti per inoltrarci una sorta di anabasi verso l'interno in questo mondo sconosciuto per la maggior parte degli italiani, sapendo che, come lei diceva, in questo nostro mondo oggi siamo 7 miliardi e 250 milioni di persone, l'Italia ha lo 0,70 di questi 7 miliardi di persone, per esempio il cibo etnico che è un passaggio, si collega molto tra dieta mediterranea, i nostri gusti e quello che sarà il futuro. Bene, i cibi etnici in Europa producono 4 miliardi di euro ogni anno, l'Europa occidentale, la parte occidentale, diciamo l'Europa 26, 24 miliardi di cibo etnico, quindi cominciamo ad abituarci, forse 20 anni fa non era facile, oggi si capisce, ci si inoltre. Certo, certo, parlare di questo è importante, come anche parlare del tema della sostenibilità ambientale, sono entrambi i vantaggi che questo tipo di alimentazione può produrre. Bene, adesso chiediamo alla regia di partire con la sigla. Grazie.